Difendere le colture senza uso di insetticidi. Abbiamo un esempio pratico, sperimentato, ormai collaudato in agro di Andrea, presso l'azienda del professor Pierluigi Spagnoletti Zeuli. Vediamo un vigneto di uva da vino dove non è stato utilizzato alcun insetticida. Perché? Per difendersi dall'aggressione della tignoletta, la lobese a Borotrana, c'è un sistema, la confusione sessuale. Un anno di applicazione di sistema di confusione sessuale su uva da vino nel nord barese. Per la vostra azienda è la prima volta che si opera in pieno campo in questo territorio. Ci sono stati dei problemi per quanto riguarda l'applicazione? No, direi che problemi non ce ne sono stati, sono quelli di ordinaria amministrazione che riguardano un'analisi preliminare del territorio per capire quali possono essere i punti critici e quindi gestire al meglio il metodo e farlo esprimere nelle migliori delle condizioni. Questa esperienza porta anche a un miglioramento per gli anni successivi per l'applicazione di questo sistema? Sì, l'applicazione ripetuta negli anni del metodo e contestualmente all'ampliarsi delle superfici porta generalmente a un generale miglioramento della situazione fitosanitaria relativamente agli insetti che vengono combattuti col metodo della confusione. Questo è un sistema, la confusione sessuale, che non è limitato soltanto per quanto riguarda l'alobesia, la tignoletta dell'uva, ma si può estendere anche a tanti altri parassiti che attaccano le altre colture? Esistono già in commercio dei diffusori che vengono utilizzati per altre specie di lepidotteri dannosi non soltanto alla vite ma anche ai fruttiferi e quindi in particolare gli insetti delle pomace, i principali insetti delle pomace e i principali insetti delle drupace. In questo territorio in particolare anche sono disponibili dei diffusori per il controllo della zeugera che è un insetto che sta creando seri danni anche in olivicoltura. L'azienda Pierluigi Spagnoli Tizeuri ha applicato sui propri vigneti, su tutta l'estensione aziendale, questo sistema. A fine campagna è soddisfatto dell'applicazione? Il problema tignola per i nostri vigneti era un problema, avevamo una popolazione di tignola piuttosto elevata e ogni anno ci siamo proposti la questione di come fare a controllarla. Abbiamo operato molti metodi, siamo giunti all'utilizzo della confusione sessuale da un paio d'anni e quest'anno abbiamo visto un risultato veramente molto buono. Nel vostro caso che è un'azienda biologico, quindi questo sistema supporta a mantenere la produzione fino alla raccolta? Il passaggio biologico è stato possibile solamente perché abbiamo visto che questo metodo funziona, altrimenti avremmo rischiato troppo, perché avremmo corso troppi rischi con le possibili attacchi di tignola. Questa esperienza la porterà a ripeterla anche per gli anni successivi? Abbiamo preso questa strada e ci siamo molto soddisfatti, quindi proseguiremo senz'altro con questo metodo.